Mario Rui, Zilinski, davanti a Brandias, cerca la palla verso Simeone, che caccia sul fondo dal dischetto del rigore. Bucata dentro per Leao, la posizione è buona, Leao Scavetto, Raffaleo, dopo oltre due mesi si sblocca nella notte più importante con un gol d'autore, 0-1, passa il Milan dopo 17 minuti. I giocatori importanti colpiscono nei momenti importanti, è quello che ha fatto Raffaleo sull'assist meraviglioso di Brandias, campione d'Italia in vantaggio al Maradona. Ancora Leao, Benasser, pallone morbido dentro, Kim, Brandias controllo, poi dribbling, 2-0, Brandias! Mancava la sua gemma, assist e gol per lo spagnolo, 0-2! Quinto gol in campionato per Brian Diaz, Milan spettacolo a Napoli! C'è Calabria ad attenderlo, Kvara, vediamo che cosa decide di fare, passaggio comodo per Zilinski, che libera a sinistro! Megnan, angolo! Leao, che sta già sfidando da solo la difesa dall'altra parte, aspetta il rimorchio di Benasser, quindi Giroud che incrocia! E la mette sul fondo di un'unghia, micidiale ripartenza del Milan, a un passo dal Tris! Tonali, che la recupera alla grande e poi con l'esterno va subito ad innescare Leao! Entrenare di rigore Leao, fa fuori Racmani! Incrocia con il sinistro, doppietta extra lusso di Raffaleo! Il punto esclamativo nella notte del Maradona, 0-3! Travolgente il portoghese, travolgente il Milan! Salma Kers, slano speciale, Salma Kers fino al capolinea! Sotto le gambe di Meret! È un Milan esagerato! 4-0 al 67esimo! Poker dei campioni d'Italia! Altro break, prova a rimontarlo Elmas, fa fuori anche Mario Rui! Salma Kers! Un Milan da incanto giganteggia al Maradona, 4-0 e resta in piena zona Champions! Fiancet! Grazie a tutti